Un cortometraggio per combattere le discriminazioni di genere, ma anche per familiarizzare con la scrittura e l'analisi del testo. Due classi della scuola secondaria Lippie hanno aderito al progetto lanciato dalla Fondazione Culturale Stenens di Firenze e finanziato dal MIUR, per approfondire le tematiche legate alle differenze di genere. Questo cortometraggio è importante farlo anche per dare esempio al resto dei ragazzi, degli alunni della scuola per non far ricapitare queste discriminazioni più volte. Nella vita reale ci sono queste discriminazioni? Sì, sì, succedono e a volte succede anche di peggio anche a scuola. Un lavoro che è durato un anno intero e che ora sta per concludersi. A fine anno scolastico sarà proiettato nell'Aula Magna. Il mio ruolo è una delle protagonisti che appunto viene presa in giro per come si veste e che i suoi munici appunto fanno parte del gruppo che la prendono in giro. Io invece sono sempre una protagonista e sono l'amica di Elena e io cerco di non starle molto vicino e poi dopo mi vado a scusare e mi viene quest'idea che faccio vestire tutta la classe, i maschi con il colore rosa, la maglietta rosa e le femmine con la maglietta azzurra. Faccio parte del gruppetto in cui prendo in giro i protagonisti. Scegliamo le battute, giriamo le scene e scegliamo le migliori. Faccio parte del gruppetto in giro. Grazie.